Su otto natanti controllati in un intenso pomeriggio di verifiche nell'ambito dell'operazione Acqua e Sicura, il bilancio di tre sanzioni amministrative per navigazione a forte velocità per circa 2.000 euro e tre sequestri amministrativi per aver installato il cosiddetto powerlift, un meccanismo che consente di alzare il motore per navigare in secca e aumentare la velocità. Continuano i controlli in laguna da parte della Polizia di Stato, nel milino proprio le piccole imbarcazioni da di porto con motore fuori bordo potenziato che sfrecciano in laguna mettendo a serio rischio la sicurezza della navigazione. La Polizia di Stato ha schierato una motovedetta classe Squalo utilizzata come ufficio mobile operativo, due acquascooter, due volanti lagunari, un'imbarcazione con un team sommozzatori ed un'imbarcazione con un team dell'unità operativa di primo intervento. Hanno partecipato all'operazione anche due unità della Capitaneria di Porto, nonché un aeromobile del decimo reparto volo della Polizia di Stato. I controlli si sono concentrati nei pressi dell'isola delle Vignole, dell'isola della Certosa e della spiaggia del Bacan. I controlli si sono concentrati nei pressi dell'isola della Capitaneria di Porto, nonché le piccole inizia con un'imbarcazione con un'imbarcazione con un'imbarcazione con un'imbarcazione. Grazie. Grazie.